cosa prepari oggi di buono la cialletta si mette l'acqua i pomodorini rossi il sale una patata chi la vuole la cipolla per quanto tempo devono bollire adesso mettiamo il pane nel piatto basta così vediamo se torniamo l'aglio metto nuovo ecco qui si fa il tuorlo lasciando lasciarlo un po più morbido in ultimo mettiamo l'uovo e l'olio si copre il piatto per farlo riposare per due minuti ecco qui questo è il piatto che abbiamo fatto si l'abbiamo coperto buca adesso mettiamo l'olio crudo ecco qua abbiamo messo pronto da mangiare pronto ecco qui ecco qui